Di dopo, all'undicesimo, arriva la rete del primo vantaggio materano. Calcio di punizione per il padrone di casa. La barriera avversaria respinge, raccoglie De Canio che batte Mancini. La reazione del Giulianova non si fa attendere e al diciottesimo giunge il pareggio. Si tratta di autorete. È stato Melis che, disturbato da un avversario, colpisce male la sfera e la mette alle spalle di Lisanti. Il Matera risponde con un tentativo di apuzzo per gli ospiti. Pasquale rimette lungo dal fallo laterale. Nessuno controlla Di Fabio che, da solo davanti a Lisanti, non ha difficoltà a mettere in rete con un bel tuffo. Il vantaggio del Giulianova, però, dura poco. Due minuti dopo, cioè al trentunesimo, si accende una mischia nella loro aria. La sfera giunge sui piedi di Pavese, appostato al limite, che assesta una botta sulla quale Mancini non può fare granché. Al quarantatresimo, il Matera fornisce l'assist per la terza rete materana realizzata da Apuzzo con colpo di testa. Gli ospiti mandano in campo l'attaccante Berlafonte richiamando in panchina il tornante Ripa, ma la loro reazione non è affatto pericolosa. Dopo, però, è Apuzzo che sigla la sua doppietta portando a quattro le reti del Matera. Il gol è di bella fattura, tocco di Pavese che pesca in area l'ala sinistra bianca-azzurra. Questi allunga la sfera alla sinistra di Mancini e rende impossibile ogni intervento dell'estremo difensore. Ad un minuto dalla fine, il bottino dei padroni di casa diventa ancora più cospicuo, ed è del re che ottiene la soddisfazione personale a coronamento della sua buona prestazione nei pochi minuti giocati. Una citazione particolare merita la buona prestazione del giovane Chiricallo, omonimo del mister, che ha bene impressionato anche quando si è spinto in avanti. Grazie.